buongiorno a tutti cari amici laziali che si sono svegliati oggi contenti del successo all'esordio al Carlo Castellani infatti la Lazio ha superato l'Empoli per 3 a 1 per via delle reti di Milinkovic, Lazari e Immobile che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio a freddo dei padroni di casa con Filippo Madinelli luci e ombre ieri non facciamoci ingannare dal successo abbastanza rotondo e dalle tante cose in buone viste perché non dobbiamo comunque tralasciare le ombre, le pecche, le falle che ieri abbiamo visto e che dobbiamo abituarci anche a vedere perché come sempre detto bisogna appazientare la filosofia sabiana ha bisogno di tanto tempo per essere affidata, per essere interpretata bene da tutti partiamo innanzitutto dalle luci, luci che comunque conosciamo, conoscevamo già da tempo e le luci derivano dalla classe, dalla tanta classe, dalla tanta qualità che la Lazio ha e che ha acquistato perché ottimo è stato per esempio il risorio di Perlo che forse dimostrerà che il suo acquisto è stato anche un po' sottovalutato ci mette tanta classe, eleganza, agilità ieri tra l'altro l'ho riuscito per campo il sessantesimo ma penso sia anche una cosa normale per un giocatore che si è allenato per un mese da solo e che comunque è entrato in campo dal primo minuto come se toccasse per la Lazio da dieci anni, cosa aspettarsi di più e le tante altre luci sono anche nate dalla Sterban, da Fauno, di Lungovic, è andato in gol anche ieri è giocatore completo, classe, eleganza, qualità, corsa, ha tutto abbiamo anche un Luis Alberto Mezzoservizio che ieri entrò presso Polo Termo, ha fatto poco e nulla anche dovuto dal fatto anche che entrato in un momento della partita pure l'altro stava gestendo anche l'energia, visto che era la prima di campionato, un ambiente comunque abbastanza a fondo il suo caldo è anche immobile ieri un po' in ombra, nonostante abbia siglato il puntetto sul definitivo 3 a 1 con il rigore procurato da Gerbi però la classe, la qualità di tutti questi giocatori, quindi tutta questa squadra qui che anche Sarri ha marcato come facendo un po' un confronto col suo Napoli a qualità la lascia non ha nuda del bilare, ed è così, non ha nuda del bilare anche tuttora a tutte le altre squadre in Italia, a nostro avviso, in fase di possesso palco perché appunto la tanta qualità fa sì che dal centro campo in su siamo veramente una delle squadre più completi e forti le ombre, le ombre sono solo tante, come ho detto ieri, il problema infatti è proprio quello contrariamente alla qualità che ci rende veramente forti in fase di possesso possiamo notare anche le difficoltà che abbiamo in fase di nuovo possesso e questo è dovuto a fatto di aver cambiato un modulo e un sistema di gioco dopo 5 anni con l'ingresso di un allenatore che tra l'altro ha delle filosofie ben chiare e delle filosofie per cui non puoi sbagliare neanche la minima uscita anche dal centro campo in su perché poi te la ritrovi a pagare in fase difensiva le distanze tra le parti erano abbastanza amiche, soprattutto quelle tra difesi e centro campo e di questo infatti ha approfittato l'Empoli con Bairami che ha fatto il bello e il cattivo tempo lì in mezzo non riusciva a essere preso, anche l'Eva non riusciva a trovare le giuste misure per accorciare per dare una mano alla difesa e quindi è andata in mezzo a difficoltà ci sono da registrare tante cose, soprattutto i tempi depressi e appunto come ho detto gli spazi che bisogna gestire bene bisogna tenere sempre la squadra corta, evitare il mini-verlore per evitare appunto di pagare a caro prezzo perché come ho detto non lasciamoci ingannare dal risultato anche abbastanza rotondo perché comunque se guardiamo anche le statistiche noteremo come l'Empoli ha fatto 16 tiri in porta 4 nello specchio come noi ma molti più di noi anche fuori dalla porta colpendo un palmo, una traversa avendo almeno un altro palio di occasioni limiti per andare in vita fortunatamente ciò non è accaduto, la Lanza ha portato comunque il risultato a casa nonostante le difficoltà iniziali, nonostante il mercato ancora indivenibile e per questo questa vittoria è importante, vale forse doppio già la prima perché è importante soprattutto in queste due giornate riuscire a portare a casa il risultato, riuscire a portare i conti poi il gioco, i meccanismi si affineranno sicuramente in un secondo momento queste due giornate poi precedono appunto la sosta e quindi dovremo ottenere tempo per assimilare il tutto, integrare i nuovi acquisti e pensiamo che a quel punto ci sarà veramente tanto da divertirci siamo fiduciosi, siamo fiduciosi però vogliamo volare basso perché come hai detto anche ieri abbiamo notato tante difficoltà che però secondo noi possono essere sopperite con il lavoro, con l'integrazione dei giocatori ma la base c'è, puntiamo magari a qualche altro tassello che possa rinforzare la nostra rosa che a quel punto non avrebbe veramente nulla da invidiare da nessuno anche potrebbe giocarsela tranquillamente in campionato con ogni squadra e anche in Europa League dove la Lazio può veramente ben figurare questa bene ragazzi questo è tutto, noi vi ricordiamo di seguirci sempre sui nostri canali youtube, facebook, instagram, twitter, siamo praticamente ovunque e vi ringraziamo per il servito che comunque ci dimostrate, per l'affetto che ci dimostrate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti